bene, questo forse è il primo video che faccio su Avastar Avastar è un programmino che dovrebbe consentire di semplificare il rigging di oggetti, abiti o avatar lo facciamo applicandolo a una testa, ho preso questa testa questa testa l'ho scaricata praticamente da BlendSwap che è un sito dove gratuitamente su iscrizione si possono scaricare i modelli che sono open source questo oggetto che ho scaricato è open source, non ha nessun requirement comunque è stato fatto da Oscar Life e qui c'è la licenza, quindi scaricandolo si ottiene questo busto dove c'è una testa e vediamo un attimo questo busto scaricandolo viene scaricato un punto zip al qui interno c'è un punto Blender qui ho saltato leggermente qualche passo per anticipare ho già caricato il punto Blender dentro Blender vedete che c'è questa finestrina 3D e in realtà adesso andremo proprio su, cioè ci costruiremo proprio una finestra 3D quindi 3D View, eccola qua dove abbiamo il nostro busto che è stato messo in un certo posto ok, qua si potrebbe volendo anche togliere il busto insomma salvarlo come obj ed eventualmente facciamolo giusto per semplicità quindi facciamo File, Export lo salviamo in formato Wavefront obj e lo chiamiamo maleboostbs.bj faccio questa operazione perché così vedete che se per caso avete un modello 3D in formato obj quindi anche che non venga da Blender sapete come operare quindi adesso andiamo facciamo New ok, partiamo dal nostro cubo qui facciamo, innanzitutto certiamoci di avere User Preferences Avastar Avastar vedete che ce l'ha 1.1.964 e visto che ci sono vediamo anche se abbiamo Screen Casting Keys quindi li abilitiamo qua sulla destra Screen Casting qua Start Display compaiono qua giù cancelliamo il nostro oggettino e mettiamoci quindi facciamo tutte le cose che faremmo con Avastar allora Avastar vi ricordo che per usarlo il modo più semplice è quello di fare Shift A e poi di aggiungere Avastar lui ci impiega un attimo perché deve fare un po' di mestieri e qui ci avviciniamo e abbiamo il nostro Avastar donna ora, visto che il busto nostro è maschile ci converrebbe probabilmente andare qui facciamo ancora 5 vediamo 1 di fronte eccolo qua ci conviene andare e vedere se riusciamo a accedere alla modalità se non vado errato dovrebbe essere da queste parti qua ecco Avatar Shape e qui abbiamo magari lo facciamo un pochino più largo vedete che qui nell'Avatar Shape dell'Object qui abbiamo le caratteristiche dell'oggetto e abbiamo la possibilità di switchare sul maschio ora che abbiamo l'Avastar maschio ci inseriamo con la import il Wavefront OBJ relativo al maleboost.obj questo ecco che ce l'abbiamo ora vabbè qui in realtà ha preso anche un po' di cose in più facciamo anche cancellare lo sfondo ok allora vedete che la testa non ha lo stesso non ha lo stesso forse avrei dovuto esportare soltanto il ecco vedete qui abbiamo gli occhi magari per il momento gli occhi li cancelliamo tanto lo riportiamo qua quindi questo facciamo Alt G Alt G riporta l'origine e poi dobbiamo scalare tutto quindi facciamo S rendiamo un pochino più piccolo portiamo la testa a cercare di farla coincidere con il nostro avatar ancora troppo grosso ok quindi ancora qui bisogna fare le cose in maniera abbastanza precise mettiamo dentro comunque i fini di questa cosa ecco questa qui potrebbe già essere interessante ok come linea di principio la cosa importantissima è che gli occhi e la bocca coincidano quindi cerchiamo di fare in modo tale che le due siano vedete quello lì il naso eventualmente se vogliamo possiamo andare sul su sull'oggetto qua e volendo possiamo dire x-ray ma trattate a vedere ecco vedete il nostro busto e quindi qua l'obiettivo è quello di fare coincidere con gli occhi qua quindi messo un po' in cima ok e anche la bocca ok forse l'intervento è più grosso ok comunque qui bisogna fare proprio attenzione a far coincidere tutti i particolari in maniera in particolare gli occhi comunque facciamo finta di averlo fatto ok ora a questo punto questo cosa dobbiamo fare dobbiamo semplicemente imparentare questo questo nostro oggetto nuovo con lo scheletro di Amastar qui la cosa in teoria più semplice è semplicemente quella di selezionare il nostro nostra testa nuova quindi che sarà questa Head Sphere 1 e Shift clicchiamo su questo che rappresenta lo scheletro e dobbiamo imparentarlo quindi andiamo su qua dove abbiamo la possibilità di fare il parenting quindi per fare il parenting semplicemente facciamo il rigging from meshes e puliamo tutto c'è interpolazione insomma tutte queste cose qua e facciamo questo benedetto parent to armature questo ci impiega un attimo e fa copia praticamente tutti i pesi delle sottostanti a questo punto noi possiamo anche andare a vedere come è stato rigato questa testa quindi andiamo selezioniamo la nostra testa andiamo in edit mode ah no andiamo in edit mode della testa e non dell'armatura quindi selezioniamo la testa andiamo in edit mode vedete qui selezioniamo tutto e andiamo a vedere eventualmente x-ray così lo vediamo bene andiamo un po' a vedere che cosa ha fatto ora da un paio di versioni di blender è possibile vedere il dunque dovrebbe essere qua show weights allora show weights è una funzionalità che ci permette di vedere l'associazione dei pesi direttamente è in edit mode quindi vediamo se è fatto bene allora vedete che la coppia di pesi ci ha copiato la testa mettendola praticamente in tutti in quei posti lì il collo poi c'è il chest sarebbe il petto il collar che sarebbe la parte sinistra destra eccetera e quindi vedete che ci ha fatto un parenting che sembra buono ora qui in realtà è facilissimo sbagliare in moltissimi modi in realtà le spalle non sono perfette ma comunque a noi ci interessa il principio voi questo ve lo aggiustate eventualmente voi prendiamo invece il concetto è quello di andare a vedere se abbiamo dei problemi su questo oggetto quindi facciamo il vediamo se ci sono dei duplicati duplicati qui ci dice che non ha vertici duplicati i vertici duplicati possono dare dei problemi di rigging possiamo vedere se ci sono dei vertici che non sono stati rigati e qui vediamo che tutti i vertici sono stati pesati vediamo se sono dei vertici che hanno 0 che hanno gruppi di vertici con 0 pesi non ce ne sono oppure gruppi di vertici con più di 4 di 4 pesi e non ce ne sono e quindi questo in teoria è già pronto per l'export se non fosse appunto che non è perfettamente allineato ci sono non mouse che mi consente di fare tutte le operazioni giuste ma il concetto molto veloce è che a questo punto per fare l'export io vado qui vedete che qui sto usando Blender 2.70 in cui c'è già questa differenza c'è questo modo di presentare le cose nel 2.69 vedete tutto questo in coda tutto il resto e facciamo semplicemente l'export con l'ada quindi con l'ada avastar.dae e qui abbiamo la possibilità di uscire con il nostro diciamo testa punto dae e basta quindi vedete che lui fa tutta l'operazione e ci esporta il nostro oggetto quindi questo adesso magari farò vedere un secondo tra poco cosa diventa su second life ok 1,2,3 dunque vedete che allora ho fatto una prova in realtà così non va bene perché questa è una testa che ha troppi vertici dobbiamo quindi semplificare ridurre il numero di vertici altrimenti produce dei problemi un dato che fortunatamente questa operazione si può fare anche in circostanze normali anche dopo averlo rigato perché noi andiamo sui modificatori e aggiungiamo un modificatore ad esempio di decimate e riduciamo di un fattore un pochino più quindi facciamo un terzo circa il numero di 0,3 facciamo le play e quindi adesso vabbè lui dice che non è il massimo ma comunque se andiamo vediamo che ci sono molti meno vertici rispetto a prima quindi abbiamo ridotto del 60% anche di più quasi 70% ma la forma vedete che si è conservata abbastanza se vogliamo facciamo questo piccolo controllo del rigging quindi andiamo a vedere ancora se è tutto a posto vediamo se rigato con le ah si dobbiamo comunque ho già fatto la prova prima dovrebbe essere ah no sul triangolo si vede i righi ecco vedete neck si è conservato i pesi e questa è una grossa cosa che ci permette di lavorarci anche dopo ok quindi riproviamo a fare l'export di questo oggetto quindi lo facciamo l'export sul slx con l'ada sul c e lo lasciamo lo esportiamo di nuovo nella testa ok ora dovrebbe funzionare a questo punto andiamo entriamo nel beta così rispermiamo qualche soldino eccoci allora qua facciamo un import upload mesh andiamo a prendere la nostra testa testa punto da ecco vedete che il fatto che ci compaiono è abbastanza carina il fatto che ci compaiono gli weight vuol dire che dovrebbe andare bene quindi testa rigata vedete che sono relativamente pochi vertici rispetto a prima ricordiamoci di mettere l'include skin weights e poi facciamo il calculate weight and fees ok 22 linden dollari upload ecco adesso qui probabilmente non si può vedere ma il senso è che la testa ce l'abbiamo e che in teoria la possiamo indossare adesso non si vedrà perché sono nuvolo ma come vedete è è venuto ce l'ha sentito insomma di importarlo molti ho visto che sono bloccati molto prima eventualmente il prossimo prossimo tutorial vediamo qualcosa di più su su altre cose di avastar comunque riassumendo avastar avete visto che è molto semplice perché è sufficiente prendere l'oggetto la testa metterla vicino alla testa originale dirgli semplicemente di fare il rigging lo fa lui e poi fare l'export e questo diciamo è l'essenza del lavoro che viene fatto in maniera molto semplice che c'è che c'è Grazie.